Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saraceno da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola. Rispondiamo oggi ad una signora che mi parla di alcol, che vorrebbe smettere di bere, che non ce la fa più, ma che non riesce a capire cosa fare e che si vergogna di andare in giro a chiedere aiuto per cui non fa nulla. Mi no alcol, no alcol. Beh, questa audio MP3 di CS, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola, guida, educa il tuo subcosciente e il tuo pilota automatico a non avere più voglia di bere, a diminuire, ad eliminare la tua voglia di bere, perché diciamocela tutta, tu bevi perché il tuo subcosciente è condizionato nel bere. Se tu elimini quell'immagine o quell'immagine del tuo subcosciente, tu non berrai più a vita. Come si fa per eliminare un vizio, una dipendenza di questo genere? Con il potere della tua mente e l'autoipnosi di CS, vera e professionale, se sai come fare. Poi, se non hai voglia di scaricarti l'audio MP3 di CS dal titolo no alcol, molto potente, senza nessuna manipolazione, senza effetti indesiderati, senza nulla di nulla, puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi, vera e professionale della tua zona, che però abbia già affrontato casi di alcol come il tuo, perché anche nel mondo dell'ipnosi vera e professionale esistono i generalisti e gli specialisti, per cui solo a te la scelta di cosa fare. Però ricordati, se ti vergogni, se non hai voglia di girare cappelle, se non hai voglia di mettere la famosa tuta, se non hai voglia di far sapere i fatti tuoi in giro, non esiste sistema migliore dell'autoipnosi di CS, vera e professionale. Fammi tutte le domande nel caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei segni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter benessereipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e ricordati, tutto parte dal tuo pilota automatico, finché non convinci lui non potrai mai ottenere ciò che desideri e che nessun altro mezzo ti ha mai dato, un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima, ciao!